benvenuti in questa guida top 7 joystick xbox 360 di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo daose controller gioca dove vuoi la tecnologia wireless integrata ad alte prestazioni a 2,4 gigahertz ti consente di controllare l'azione fino a 10 metri 3 vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 5 stelle favorevole l'offerta 5 stelle per le caratteristiche con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il nostro punteggio generale è di 73 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo il lunga ams w all game alta quali questo controller xbox un prodotto di terze parti ed un ottimo sostituto dei tradizionali controller cablati xbox 360 ecco cosa pensiamo una soddisfacente qualità generale nell'offerta assegniamo 5 stelle 5 stelle per le caratteristiche con un rapporto qualità prezzo adeguato il nostro punteggio generale è di 81 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo bea saf controller doppio ammortizzatore e risposta rapida alle caratteristiche del controller cablato ad alta sensibilità di due motori di feedback delle vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 4 stelle 4 stelle per l'offerta del momento per le funzionalità raggiunge 4 stelle sommariamente discreto il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 82 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare gezi meti xbox compatibile con p piattaforme gezi meti joystick xbox 360 completamente compatibile con i sistemi operativi xbox 360 vediamo il nostro parere una qualità generale discreta buona la promozione per funzionalità diamo 5 stelle nel rapporto qualità prezzo raggiunge 3 stelle il nostro punteggio generale è di 84 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo ilunga ams wll wireless compatibile multipiattaforma compatibile con la console di gioco xbox 360 e supporta windows xp vist vediamo la nostra opinione la qualità generale raggiunge 5 stelle imbattibile l'offerta a prezzo scontato per le funzionalità raggiunge 4 stelle sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo etparkk controller ampia compatibili tele a versione 2021 del radiocomando etpark 360 a caratteristiche pistabili il nostro controllo ecco la nostra valutazione qualità generale davvero eccellente favorevole l'offerta 4 stelle per le caratteristiche sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 91 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica daose xbox compatibile con p piattaforme il controller daose xbox 360 progettato per sistemi di gioco microsoft xbox 360 e windows pc win ecco il nostro parere un eccezionale qualità generale estremamente convincente l'offerta nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 90 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale